Contro favorito Napoleone Lanz numero 5, macchina che accelera. In partenza proprio Luther Dasolo, velocissimo, cerca di conquistare il comando contro Orlando Blu che però rientra, mentre in terza corsia è costretto Napoleone Lanz. Intanto al comando Orlando Blu ha respinto l'offensiva di Luther Dasolo. I primi 200 in 14.2, in seconda posizione si mantiene invece Nero De Gloria che ha ben sfruttato la scia del battistrada. E così dopo 400 metri di gara in 30 secco c'è la mossa di Napoleone Lanz che forza e si porta su Orlando Blu ma non riesce a superare Luther Dasolo così rimane ancora in terza corsia dopo 600 metri onerosi in 45.8. Davanti alle tribune insiste Napoleone Lanz e questa volta supera l'opposizione di Luther Dasolo. Arriva al sediolo di Orlando Blu che è sempre in schiena Nero De Gloria. Intanto per corsi esterni c'è anche il New Dream Rex seguito da Parsifal. Poi la mossa di Olimpionico dalle posizioni di retroguardia quando siamo a metà della penultima piegata. Tenta l'anticipo New Dream Rex, intanto 1 minuto e 6 decimi gli 800 e chilometri. In 1.16.2 lo scatto di Olimpionico e viene via cattivo a 550 dal palo ma si getta di galoppo improvvisamente. L'errore di Olimpionico quando arriva forte a centropista così Napoleone Lanz che prende vantaggio ora all'ingresso sulla curva conclusiva. Deve vedersela con Luther Dasolo che scatta al suo esterno a 300 dalla conclusione mentre anche Nero De Gloria è in partita e segue direttamente le mosse del nuovo leader Napoleone Lanz attaccato da Luther Dasolo completamente dalla curva ingresso in retta d'arrivo. Napoleone si difende insiste però Luther Dasolo a centropista c'è Nero De Gloria finale con Luther Dasolo che riesce a passare a vincere su Napoleone Lanz per il terzo probabilmente Nero De Gloria contro Orsa Jet che finisce bene all'interno. 1.15.2, 29.9 a chiudere, il successo per Luther Dasolo, Federico Esposito in sediolo, il training quello di Eric Bondo, la vittoria del favorito 2.64 dal totalizzatore mentre andiamo a rivedere le immagini conclusive. Una mezza lunghezza di vantaggio per Luther Dasolo su Napoleone Lanz mentre terzo è Nero De Gloria.